Long Play di Sonic Christmas, versione del 2020, una hack di Sonic the Hedgehog per Sega Mega Drive, una hack a tema natalizio. Il gioco non è molto lungo e è tutto tematizzato sul Natale. Il level design di tutti gli schemi presenti è nuovo, si può fare lo spin dash ed è presente anche un doppio salto. Purtroppo ho avuto dei problemi con l'audio che spesso non si sentiva oppure si sentiva male. Se volete scaricarlo, in descrizione c'è un link ad un altro video YouTube che in descrizione ha il link per scaricarlo. Buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!